Si rinnova l'acquedotto, Marche Multiservizio ottiene 27 milioni di euro. Redditi nelle Marche 1.100 euro in meno rispetto alla media nazionale. Intercultura lancia 16 giovani ambasciatori della provincia nel mondo. L'Università di Urbino premierà Fiorello con il sigillo d'Ateneo. Winetur porta alla scoperta della biodiversità del Parco Miralfiore. Una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di Rossini News. Il nostro telegiornale delle Canali 80 che in questa edizione di venerdì 10 di maggio apriamo occupandoci di un finanziamento a suo modo storico per Marche Multiservizi che ottiene più di 27 milioni di euro di fondi PNRR per ammodernare la rete idrica della provincia. Vediamo. Un'occasione storica. Così Marche Multiservizi definisce il risultato straordinario dell'ottenimento di 27 milioni e mezzo di euro di fondi dal piano nazionale di ripresa e resilienza dedicati all'ammodernamento della rete idrica. Un finanziamento che è stato presentato oggi in conferenza stampa. Ricordiamo che Marche Multiservizi gestisce una rete acquedottistica di 5.000 km. Grossa parte di questo finanziamento sarà destinato all'ammodernamento di 50 di questi chilometri ma poi anche tanti altri interventi dalla digitalizzazione fino all'installazione di 14.000 contatori smart. Un intervento che è stato presentato oggi con i benefici ma anche i pericoli definiamoli così quelli di un finanziamento PNRR legato ad una scadenza precisa, quella del 31 marzo 2026 data di consegna obbligatoria dei lavori. Va nella direzione di ammodernare tutto il nostro sistema acquedottistico cominciando da quelle che sono le reti ma non solo le reti i contatori teleletti per quanto riguarda tutte le partite IVA quindi diciamo che è un investimento complessivamente di 27 milioni e 500 grosso modo che va nella direzione proprio di contribuire a tutti quelli che facciamo già costantemente tutti gli anni come impiantistica per ammodernare una rete che comunque sappiamo essere molto lunga perché abbiamo 5.000 km di rete e con un'età media che è abbastanza elevata e conseguentemente questo è un contributo molto importante che ovviamente dobbiamo mettere a terra in tempi molto ristretti. Purtroppo il ritardo dell'assegnazione di un decreto che doveva essere emanato ai primi di gennaio almeno così mi dicevano è uscito il 6 di maggio e ci costringe veramente a correre perché i lavori vanno completati entro il 31 marzo 2026. C'è estrema soddisfazione, ora bisogna lavorare perché i tempi sono veramente molto stretti ma su questo ho avuto modo di verificare in questo periodo che insomma Marche Multiservizi la struttura non avrà problemi a rispettare i tempi. La collaborazione da parte di tutti quindi anche dell'interautorizzativo non è secondario perché poi noi progettiamo e siamo pronti a lavorare ma se non abbiamo le autorizzazioni diventa tutto più difficile per cui un appello un po' a tutti gli enti che dovranno autorizzare questi lavori che avranno anche un indotto dal punto di vista dei lavoratori anche importante insomma stimiamo due o trecento persone che in più andranno a lavorare su questi quasi 30 milioni di intervento sull'idrico per cui credo veramente che oggi sia una giornata storica. Il scopo è quello di modellare la rete, di renderla digitalmente più efficiente più al tempo con i tempi. È un modo di dire per dire che dobbiamo sempre rinnovare e cercare di fare di meglio quindi abbiamo interventi che servono per appunto completare la digitalizzazione della rete la modellazione quindi una ricostruzione reale di tutto quello che noi abbiamo in campo per poi andare a individuare gli interventi di rinnovamento rinnovamento delle reti, rinnovamento delle apparecchiature che sono in campo andremo a fare una ricerca perdite con tecnologie innovative quello che viene chiamato la ricerca con i raggi cosmici è una tecnologia sicuramente innovativa che ci consentirà di essere più veloci nella ricerca delle perdite e quindi poi dopo nella loro riparazione. Quindi correre con tante ditte, con tante professionalità messe in campo perché l'obiettivo è quello di finire tutto quanto entro marzo del 2026. Ed ora la politica questa volta proiettata verso le elezioni europee perché il prossimo lunedì 13 maggio alle 15 all'hotel Baia Flamina di Pesaro si terrà un confronto fra candidati promosso da CGL e CGL Marche a confrontarsi sugli scenari di questa specifica elezione saranno i candidati del PD Michele Franchi, Alessia Morani e Matteo Ricci Sergio Romagnoli del Movimento 5 Stelle, Agnese Santarelli di Alleanza Verdi Sinistra e Massimo Seri di Azione. Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero dell'Economia in base all'analisi delle ultime dichiarazioni dei redditi nelle Marche il cittadino medio guadagna circa 20.641 euro ovvero 1.100 euro in meno rispetto a quella che è la media italiana. Un dato che tra l'altro denota un aumento di reddito del 4,9% rispetto all'anno precedente ma non abbastanza da compensare un'inflazione aumentata dell'8%. Le Marche dunque si collocano a metà strada fra il vertice della classifica segnato dalla Lombardia e il fondo toccato invece dalla Calabria. Andando a scandagliare i dati dei cinque capoluoghi di provincia Pesero-Urvine è superiore alla media regionale con 22.798 euro di reddito pro capite secondo in regione solo a Dancona che è superiore di circa 900 euro. Ha fatto tappa nell'industria pesarese IFI il tour divulgativo della regione Marche in merito ai nuovi bandi dedicati alle piccole e medie imprese. Vediamo quali sono le nuove opportunità. Abbiamo il piacere e l'onore di essere stati segnalati per ospitare questa iniziativa promossa dalla regione Marche proprio anche per il calibro dei temi che sono oggetto della presentazione dei bandi comunitari che riguardano temi importantissimi, fondamentali come l'innovazione con le start-up innovative, l'internazionalizzazione, le filiere produttive che sono tutti e tre temi che la nostra azienda IFSPA ha convintamente nel passato e ancora oggi e nel futuro ha creduto e crederà in maniera convinta come volani e propulsori della crescita. Continuiamo il giro di presentazione di un pacchetto di tre bandi che la regione Marche, l'assessorato allo sviluppo economico, mette a disposizione delle piccole e medie imprese marchigiane. Sono tre bandi per un totale diversi, per un totale di circa 25 milioni di euro, un bando che riguarda progetti di internazionalizzazione, in sostanza vogliamo sostenere le aziende, delle imprese che si rivolgono soprattutto a mercati esteri, lo facciamo attraverso il sostegno a un nuovo utilizzo degli strumenti della comunicazione, del marketing in modo particolare, dell'innovazione digitale. Poi un bando dedicato invece alle start-up innovative, quindi ci rivolgiamo a quella parte più creativa che caratterizza anche un po' il nostro ecosistema delle giovani imprese, con un bando che le vuole da un lato sostenere nell'avvio, dall'altro anche consolidare per quelle start-up innovative che già hanno più di un anno di esistenza. E poi infine un bando dedicato proprio alle filiere, alle filiere produttive, perché per noi è fondamentale unire, mettere insieme, fare rete di imprese, una serie appunto di imprese che possano attraverso dei progetti, anche in questo caso, che abbiano comunque una forza innovativa, creare appunto una filiera regionale che pensiamo possa essere risolutiva soprattutto nel cercare di trovare e mettere insieme diverse competenze. Continuiamo questo giro, oggi siamo qui in provincia di Pesaro-Urbino, a Lifi, ringraziamo per la ospitalità e poi proseguiremo nelle altre province prossimamente. 16 giovanissimi studenti della provincia di Pesaro e Urbino saranno ambasciatori all'estero del nostro territorio, nei più svariati luoghi del pianeta, grazie al progetto Intercultura. 16 studenti e studentesse delle scuole superiori di Pesaro-Urbino sono pronti a partire verso ogni angolo del globo per le esperienze formative di Intercultura, associazione nazionale che attraverso un concorso diramato in ognuno dei suoi 159 centri locali permette ai giovani di godere di una preziosa opportunità. 16 ragazzi ospitati ieri in prefettura in una cerimonia di premiazione al loro ruolo di ambasciatori della provincia all'estero, una provincia che ospiterà invece 5 studenti provenienti da ogni parte del mondo. I ragazzi devono fare un percorso di selezione che parte da un test psicoattitudinale e poi una serie di colloqui e incontri, devono compilare un fascicolo e poi entrano in una graduatoria a livello nazionale insieme a tutti i ragazzi che si candidano in tutto il paese. Il centro locale nel nostro territorio c'è dal 2014, abbiamo avuto più di 200 ragazzi che sono partiti, ne abbiamo ospitati dall'estero più di 40 in tutta Italia, poi tutti i centri locali fanno numeri molto molto importanti, ogni anno partono più di mille studenti, ne vengono ospitati centinaia in Italia, quindi è un progetto di cui siamo molto molto contenti. Ho scelto l'Argentina poiché volevo andare a qualche parte in America e ho messo ovviamente più opzioni e mi è capitato l'Argentina. Ecuador. Perché hai scelto l'Equador? Perché volevo interfacciarmi con una cultura diversa e mi interessava molto questo paese. Perché mi piace molto l'Asia e volevo mettere alcuni paesi dell'Asia e poi ho avuto la fortuna di capitare in Indonesia e sono molto contento di dove sono capitato. Mi è sempre piaciuto fare un anno all'estero, l'ho sempre voluto fare e andando sul web ho visto diverse agenzie e poi mi sono rivolto a Intercultura per prendere una borsa di studio. Adesso inizieranno degli incontri, dei corsi per conoscere meglio come funzionerà la vita in famiglia e nel paese dove andremo. Io andrò in Irlanda e ho scelto, ho dato la preferenza di questo paese perché mi sono già andata in Irlanda e mi sono trovata molto bene in precedenza e quindi volevo tornare per approfondire la mia conoscenza dell'inglese e anche della cultura del paese. Sono stata un anno in Honduras nel 2022-2023. Mi ha colpito particolarmente questa destinazione perché era un anno insolito che non tutti facevano e per di più ampliavo non solo le conoscenze dello spagnolo che appunto è una lingua che tuttora studio ma anche di lingualese perché appunto frequentavo una scuola bilingue e mi ha colpito tutto, è stato un paese pieno di nuove scoperte. Lo scopo è far sì che questi ragazzi per una crescita personale possano mettersi a confronto e scoprire il diverso, fare un po' di ambasciatori dell'Italia, del nostro territorio, quando si incontrano con culture diverse e in generale poi al di là dell'esperienza personale quella di cercare di creare un dialogo interculturale tra mondi diversi, paesi diversi e culture diverse. Devo dire che fa un'opera veramente incomiabile perché grazie ai volontari che fanno parte dell'associazione si riesce a far sì che gli studenti in questo caso della provincia di Pesaro Urbino possano andare all'estero e quindi fare quell'esperienza secondo me formativa sia da un punto di vista culturale ma anche sociale, di rapporti, di amicizie che poi magari rimangono per tutta la vita. Il popolarissimo showman Fiorello riceverà il sigillo di Ateneo delle Università di Urbino Carlo Bo da parte del rettore Giorgio Calcagnini il prossimo 21 maggio alle 11 nell'aula magna dell'area scientifico didattica Paolo Volponi. Fiorello viene premiato per le sue capacità comunicative e nell'occasione si intratterrà con gli studenti dell'Università di Urbino attraverso la lezio magistralis dal titolo La mia vita, la mia carriera, lo stesso grande spettacolo. E continua la nostra marcia di avvicinamento verso le elezioni del prossimo 8 e 9 giugno. Le nostre telecamere si sono accese ieri a Gabicce Mare in occasione della presentazione dei candidati della lista Insieme per Gabicce Mare a sostegno della candidatura a sindaca di Marila Girolomoni. Siamo qui questa sera al Teatro Astra di Gabicce Mare per presentare finalmente la lista Insieme per Gabicce Mare che mi accompagnerà per questo percorso, durante questa campagna elettorale. Una lista fatta di persone giovani, perché comunque l'età media, abbiamo fatto il conteggio così per gioco, è di 42 anni, quindi un'età media buona per affrontare delle politiche amministrative su un territorio come quello di Gabicce Mare, formata di persone con esperienza e senza esperienza. Questa è stata proprio una scelta. Quindi proporre e presentare l'esperienza nel segno della continuità, nel segno di renderci subito operativi con i lavori, perché sono già persone che conoscono la macchina amministrativa e sanno come affrontare tutte quelle che sono i vari percorsi amministrativi. Affiancati però da altre persone che sono giovani, quasi tutti giovani sì, che non hanno esperienza ma che hanno voglia di dare il loro contributo per il Paese. Quindi questa è stata una scelta nel segno di un rinnovamento. Quindi sarà una continuità ma allo stesso tempo rinnovata dall'influenza di queste nuove energie che daranno quel respiro diverso a quelli che sono già stati comunque una parte di progetti realizzati sempre nel segno della continuità. Quando parlo di continuità mi riferisco ovviamente anche alla mia esperienza perché io esco dall'urolo di vice sindaca di questo comune, ho alle spalle già dieci anni di esperienza amministrativa, sono anche consigliere provinciale, ho una capacità e una competenza basata su un profilo giuridico perché sono un avvocato e mi sento ancora desiderosa di donare al mio Paese, alla mia Gabizia Mare, perché io sono qui esclusivamente per Gabizia Mare, la mia forza e la mia voglia di continuare a fare qualcosa per questo Paese. Le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece alla ricca carrellata di auto d'epoca in sosta ieri pomeriggio in Piazza del Popolo, scelta come tappa di arrivo dell'autogiro d'Italia, corsa automobilistica di Gran Fondo su strada, giunta alla sua sesta edizione che dal 2019 appuntamento fisso nel panorama degli historical challenges e che da quest'anno vede tra i partner anche la CNA. Partite da Ravenna, le auto hanno raggiunto ieri Pesero in un percorso di 216 km che ha toccato anche Macerata Feltri, Casinina, Montecalvo, Urbino, Tavuglia, Gradara e la panoramica del San Bartolo. Questa mattina le auto sono invece ripartite per la quinta tappa arrivando a Senigallia dopo un tour che ha toccato luoghi della provincia pesarese quali Monbaroccio, Cartoceto, Calcinelli, Orciano, Mondavio e San Michele al fiume. Torna per la terza edizione We Nature, un format dedicato alla natura che da domani avrà il suo clou nel parco del San Bartolo ma che quest'oggi ha avuto un suo antipasto al parco Miralfiore dedicato ai bambini delle scuole primarie. Questa mattina grazie a We Nature il parco Miralfiore si popola di bambini e bambine delle scuole elementari che vivranno una giornata di grande avventura. Noi abbiamo voluto aggiungere in questa terza edizione anche in occasione di Pesero capitale della cultura 2024 abbiamo voluto aggiungere un elemento in più che è quello delle scuole. Il payoff di Pesero capitale della cultura era la natura della cultura, non poteva mancare la natura e noi come Swarovski Optic che quando abbiamo promosso tre anni fa l'edizione di We Nature abbiamo voluto quest'anno aggiungere una giornata dedicata ai bambini, i bambini con le classi, con le scuole di Pesero. Ogni casa, in ogni casa nel passato c'era un binocolo e si tramandava quasi per tradizione, per generazioni. Ecco c'è bisogno di questo ritorno ma soprattutto c'è bisogno di questo ritorno per osservare quello che ci circonda e in questo caso la natura è piena di risorse e di scoperte. Questo parco Miralfiore è bellissimo, è grande, c'è un sacco di biodiversità sia in piante che animale e oggi infatti con le classi andiamo a scoprire la biodiversità di questo bellissimo parco. In mezzo alla città è proprio un polmone, un polmone verde. Che cosa si può trovare all'interno di un parco che per la città noi siamo abituati quasi a considerare come una piccola goccia nel tessuto cittadino e invece cosa si può trovare? Allora io sono venuto qua oggi per la prima volta e posso dire che non è una piccola goccia ma è in realtà ricco, ricco di biodiversità perché a volte alcuni spazi possono sembrare degradati. Ecco in realtà non è questo il modo con cui bisogna giudicare l'ambiente, non sempre l'estetica è il modo migliore. Ricordiamoci che per esempio gli uccelli sono dei grandi bioindicatori, cioè ci fanno capire la loro presenza, lo stato dell'ambiente in cui stiamo. Ecco io ho sentito il canto di diverse specie di uccelli, anche poco comuni, nel senso che sono però adesso stanno arrivando diverse specie di uccelli vicino anche ai centri urbani ed avere spazi del genere non è scontato, invece è una cosa molto importante. Per questo ecco posso dire, ecco consigliarvi di stare qua, di stare all'aperto, di osservare le tante specie di uccelli che sono qui presenti, ho saputo che ci sono delle nidificazioni di aerone cenerino, ecco ci sono diversi adesso uccelli che in questa stagione riproduttiva stanno cantando e stanno venendo qua per nidificare, per fare il nido qua. Ecco quindi non c'è modo migliore per capire che questo spazio, questo spazio verde è in realtà ricco di biodiversità e quindi è molto bene, molto giusto viverlo. E continuano le mostre di Pesaro, capitale della cultura 2024, oggi è stata inaugurata ai musei civici spazi a tempo dell'artista Olivo Barbieri. E' stata inaugurata ai musei civici di Palazzo Mosca la mostra Spazio a tempo dell'artista emiliano Olivo Barbieri. L'esposizione, inserita nell'offerta di Pesaro 2024, offre una selezione del lavoro di Barbieri che tra il 2003 e il 2023, servendosi di elicotteri, si è dedicato all'osservazione delle città del mondo e allo studio delle possibili rappresentazioni della città contemporanea, riflettendo sulla natura e sulla percezione delle città del XXI secolo. Spazio a tempo ripercorre cronologicamente vent'anni di ricerca sulle forme architettoniche di più di 60 città come Roma, Shanghai, Las Vegas, Siviglia, Bangkok, Los Angeles, città del Messico, Istanbul, Brasilia o Tel Aviv. Spazio a tempo è un racconto della forma della città contemporanea, sono più di 60 città fotografate e filmate da elicotteri. L'idea è quella di restituire in un luogo come Pesaro, vicinissimo a un'opera d'arte famosissima come la città ideale attribuita a Piero della Francesca, un'idea più contemporanea e più aggiornata di quello che sono i nostri desideri del vivere in una città. Il progetto nasce appunto vent'anni fa cercando di capire, dopo il crollo delle torri gemelle, in quale misura le città fossero diventate dei luoghi minacciosi o pericolosi. C'è un tentativo di riconciliazione con la nostra contemporaneità questo progetto. La mostra che sarà aperta fino al 15 settembre è stata presentata oggi nella sede di via San Francesco di Riviera Banca, special partner dell'esposizione artistica. Pesaro è proprio la città che ha tutti i requisiti per essere e per rientrare nella città ideale con la cultura, i paesaggi, la musica, l'ambiente, le bellezze e l'arte. È un valore della nostra banca, la cultura, insieme alla prevenzione e cura della salute, insieme al sostegno dei giovani, insieme alla mutualità molto sentita. E concludiamo il nostro telegiornale con lo sport, ricordandovi che proprio in questi minuti è in corso attualmente gara 1 dei quarti di finale play-off di calcio 5 che vede l'Ital Service, Pesaro impegnato in casa, della capoglassifica Olympus Roma. Gara 2 si giocherà a Pesaro al Palamegabox lunedì 13 maggio alle ore 20. Dal calcio 5 al calcio, la Vispesoro invece al lavoro per la gara d'andata di play-out contro la Re Canatese, al Tubaldi si giocherà domenica alle 18 con il tutto esaurito già registrato da giorni per gli oltre 500 biglietti concessi ai tifosi pesaresi nel settore ospiti. La gara di ritorno sarà al Benelli di Pesaro domenica 19 maggio, sempre alle ore 18. Passando invece al volley, pensa già al futuro la Megabox Vallefoglia che ha ufficializzato l'ingaggio del libero Chiara De Bortoli, classe 1997, campionese d'Italia nel 2019 con Conegliano e che nelle ultime due stagioni ha militato in Serie A con Casal Maggiore dove fu allenata anche da coach Andrea Pistola. Si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News, prima di salutarci vi ricordiamo alcuni altri appuntamenti in questo venerdì sera, cominciare da quello che arriva subito dopo il Tg, quello dedicato al magazine La Natura della Cultura con gli appuntamenti dedicati a Pesaro 2024, questa sera parleremo della prossima settimana del progetto capitali 50x50 capitali al quadrato che sarà dedicata a Belforte, all'isauro appuntamento alle 20 per il nostro magazine che va in onda sempre lunedì, mercoledì e venerdì alle 8, le 13 e le 20 ma che ci sarà anche domani e domenica con le tre puntate inglobate in un unico contenitore, appunto domani alle 12 e le 19 e domenica alle 15 e alle 21. Spazi culturali come quelli che saranno proposti anche questa sera alle 21 e 20 con lo speciale dedicato alla rassegna profumi e sapori di primavera a Candelara. A seguire da Candelara ci si sposterà a Fiorenzuola di Focara perché alle 21 e 40 vi mostreremo l'inaugurazione della mostra Fiorenzuola, si racconta l'800 svelato come detto alle 21 e 40. Ed è davvero tutto per questa sera, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi.